Sì, sì, anche io sono un teatrante, anche se adesso ho cominciato questa avventura da editore e direttore di un giornale. Allora io ho proposto già da tempo che lo Stato, visto che Franceschini ha fatto una proposta surreale con l'apertura di 200 spettatori nei teatri, che non servono a niente, non si rientra economicamente, una compagnia non può, allora lo Stato paghi per ogni poltrona vuota, perché quando i teatri erano aperti, i teatri e i cinema, su centinaia di migliaia di spettatori c'è stato soltanto un contagio, quindi la chiusura dei teatri e dei cinema è senza senso, perché ci sono attività che hanno speso migliaia di euro per mettersi in sicurezza e poi sono state chiuse, senza una motivazione. Quindi lo Stato paghi per ogni poltrona vuota e faccia riprire i teatri in sicurezza. Ecco, questo fatto del cronoprogramma, questo fatto che per esempio alcune attività possono in qualche modo garantire la sicurezza, è un altro grande tema, e torno da Gaetano Pedullà.